Le grandi industrie farmaceutiche effettuano enormi pagamenti ai revisori paritari delle principali riviste mediche. Un caro saluto a tutti e tutte e grazie di essere su Canal 104 Plus. Quella che segue è una nuova ricerca pubblicata sul Journal of the American Medical Association, JAMA, la quale ha rivelato che la maggior parte dei revisori paritari per le riviste mediche ricevono compensi dalle industrie farmaceutiche. Mi limito a pubblicare alcune schermate tradotte automaticamente in lingua italiana nelle pagine web che ho trovato online. I compensi che vengono dati ai medici che conducono revisioni paritarie da parte dei produttori di farmaci e dei dispositivi medici ammontano a 1,06 miliardi di dollari nei tre anni dello studio. Questo è chiaramente un conflitto di interessi e, mentre le riviste hanno spesso delle politiche sui conflitti di interessi applicate agli autori, sono pochissime quelle che richiedono ai revisori paritari lo stesso standard. I ricercatori hanno esaminato i pagamenti e le ricerche generali, dove i medici hanno svolto il ruolo di revisori paritari per le principali riviste che hanno ricevuto dai produttori di farmaci e dispositivi dal 2020 al 2022. Alcune delle pubblicazioni studiate includevano The Lancet, The New England Journal of Medicine, BMJ e persino JAMA che ha pubblicato la lettera di ricerca. Il medico residente in urologia dell'Università di Toronto, David Dan Guyen, autore dello studio, ha affermato che, sebbene siano stati indagati i conflitti di interesse degli editori e degli autori delle riviste, la natura tradizionalmente opaca della revisione paritaria ha ostacolato la loro valutazione tra i revisori paritari, nonostante il ruolo cruciale nell'editoria accademica. Hanno studiato gli elenchi di revisori paritari di ciascuna rivista e li hanno confrontati con le informazioni del database Open Payment sui pagamenti generali e di ricerca. Inizialmente sono stati elencati più di 7.000 revisori, ma il numero è stato ridotto a 1962 dopo aver escluso coloro che non erano medici o che non si trovavano negli Stati Uniti. Hanno scoperto che quasi il 59% dei revisori ha ricevuto almeno un pagamento dal settore durante il periodo di studio. Tra questo gruppo, più della metà ha ricevuto pagamenti generali e il 31,8% ha ricevuto pagamenti per la ricerca. Il denaro assegnato includeva più di un miliardo di dollari dati ad individui o alle loro istituzioni, più di 64 milioni di dollari in pagamenti generali, 11,8 milioni di dollari in compensi per arredatori e più di 34 milioni di dollari in compensi per consulenza. Quanto vale una revisione paritaria nel mercato odierdo? Il ricercatore ha scoperto che il pagamento medio per la ricerca era un generoso 153.173 dollari, mentre il pagamento generale medio era di 7.614 dollari. C'era una notevole divisione tra i sessi, con i revisori maschi che godevano di un pagamento totale medio di 38.959 dollari contro 19.586 dollari per le donne. La differenza nei pagamenti generali era una media di 8.663 dollari per i revisori maschi contro 4.183 dollari per le femmine. I pagamenti variavano anche in base alla specializzazione, con alcuni che guadagnavano significativamente di più rispetto agli altri. Gli autori hanno sottolineato di non aver considerato i pagamenti da entità come società tecnologiche e assicurative, il che significa che potrebbero sottostimare i pagamenti che vengono forniti ai revisori. Molte volte gli studi sono considerati più affidabili se portano all'etichetta revisione paritaria, ma ricerche come questa ci mostrano quanto poco significa realmente questo termine. I revisori paritari agiscono come arbitri critici sia della validità che della pertinenza degli studi sottoposti a revisione paritaria. Pertanto comprendere le potenziali relazioni intellettuali e finanziarie che possono influenzare il loro processo decisionale è fondamentale per comprendere come queste influenze condizionano la letteratura sottoposta a revisione paritaria, ha affermato il coautore dello studio il dottor Christopher Wallace dell'Università di Toronto. Al giorno d'oggi è difficile trovare informazioni imparziali sull'assistenza medica. Persino i dottori non sono affidabili, poiché ricevono sempre più tangenti dalle aziende farmaceutiche per prescrivere i loro farmaci. Uno studio di ProPublica ha scoperto che oltre 700 dottori avevano ricevuto almeno un milione di dollari in tangenti dalle aziende farmaceutiche, sollevando dubbi su cosa li motivasse a prescrivere un farmaco e se fosse veramente necessario, in ogni caso, in cui scrivessero una prescrizione per quel farmaco. Secondo voi succede anche qui in Italia?